Gara tiratissima ed è arrivata questa vittoria davvero straordinaria Sì finalmente sono riuscito a tornare forte come andavo l'anno scorso Oggi stavo bene, il percorso mi piaceva e è stata una bella lotta con Edoardo A chi dedichi questa vittoria? Ma la dedicava sempre alla mia famiglia, mio papà soprattutto Che mi segue ogni giorno, che mi porta qua, il mio allenatore Alex e basta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti